Papa Francesco non è riuscito a leggere il suo discorso all'udienza del Palazzo Apostolico in Vaticano venerdì a causa della tosse e del respiro affannato. Vergoglio, 87 anni, è afflitto da tempo dai problemi di salute che nei mesi scorsi gli avevano impedito di partecipare alla COP28 di Dubai. Avrei da leggere un lungo discorso, ma ho il respiro affannato, ancora questo raffreddore che non se ne va, ha commentato il Pontefice, rivolgendosi alla delegazione della Federazione Internazionale delle Università Cattoliche, ricevuta in occasione del centenario dalla Fondazione.